E' domenica 26 febbraio, ben arrivati all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con l'appuntamento politico per oggi, seggi aperti per le primarie del Partito Democratico. Si vota fino a questa sera alle 20. Siamo andati a vedere come procedono le operazioni. Elezioni primarie del Partito Democratico, siamo alle 11.45, Ilaria Violin è presidente di seggio qui al Circo L'Aurora. E' possibile a grandi linee individuare la percentuale di coloro che sono venuti stamani al voto? Allora, noi abbiamo accolto le prime persone alle 8.30, quindi dalle 8.30 ad ora non abbiamo avuto sosta. E quindi è molto bella questa partecipazione elevata a queste elezioni che per noi naturalmente sono molto importanti, queste primarie che per noi sono molto importanti. Fino a questo momento tutto si è svolto regolarmente? Sì, assolutamente. Tutto si è svolto regolarmente e appunto non ci aspettavamo un'affluenza così elevata e appunto accogliamo le persone che vogliono partecipare a questo grande processo democratico. Ecco, vogliamo ricordare chi ha diritto al voto? Hanno diritto al voto appunto tutti i residenti che hanno la tessera elettorale e per quanto riguarda il voto invece online ci si doveva registrare nei giorni scorsi, quindi tutti quelli che hanno la tessera elettorale possono votare nei circoli di appartenenza. Quindi possono votare anche coloro che non sono iscritti al PD? Naturalmente questa consultazione è fatta apposta proprio perché noi crediamo che la partecipazione sia il motore fondante della nostra azione. Adesso parliamo di meteo. Come previsto la neve è tornata a far capolino nell'Aretino con nevicate che stanno interessando le zone della Valtiberina e del Casentino senza creare al momento difficoltà pur rimanendo la necessità di percorrere i passi con equipaggiamenti adeguati. In pianura forti piogge ma situazione assolutamente sotto controllo. E c'è stata una tragedia della strada ieri sera all'altezza del ponte di Pratantico nel comune di Arezzo. Un uomo di 58 anni ha perduto la vita in un incidente con lo scooter. Sgomento in città per l'incidente accaduto sabato sera sul regionale 69 del Valdarno all'altezza del ponte di Pratantico. L'incidente è costato la vita a Umberto Valtriani, 55 anni, volto conosciuto in città per essere da anni dipendente di un supermercato cittadino in via Alfieri. Valtriani, in sella al proprio scooter, forse a causa dell'asfalto scivoloso, ha perduto il controllo del mezzo finendo a terra e battendo con violenza la testa sullo spigolo del marciapiede del ponte. L'impatto è stato fatale, l'uomo è deceduto sul colpo, il casco protettivo si è rotto. Lo scooter, dopo aver urtato il muretto del ponte, ha finito la sua corsa un centinaio di metri dopo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia. Gli agenti hanno eseguito i rilievi di legge, in particolare nel punto in cui la vittima ha colpito il cordolo del marciapiede. La salma è stata poi portata all'obitorio del San Donato dagli operatori della misericordia. La notizia della morte di Valtriani ha suscitato dolore nei suoi cari e negli amici. Anche i colleghi di lavoro e dirigenti della struttura commerciale hanno manifestato il loro dolore per la scomparsa di un collega ben voluto e stimato. Una fatalità che gli è costata la vita. Il Borgo Alto è ancora zona rossa, a Campi di Norcia però c'è un centro di aggregazione dove l'amicizia significa ancora molto. Una cena con scambio di olivo, simbolo della pace, ha suggellato ancora di più, se ce n'era bisogno, l'amicizia con Castiglion Fiorentino. Un viaggio a Campi di Norcia per aggiungere un tassellino nell'amicizia tra Castiglion Fiorentino ed il piccolo centro a 12 km da Norcia. È un ulteriore sigillo per questa bellissima amicizia che dura nel tempo. Quello olivo, guarda, sono veramente commosso perché è una pianta bellissima, è una pianta piena di significati e ricevuta veramente da Castiglion Fiorentino, da Mario e da tutti quanti voi, assume ancora un significato più profondo di legame, di amicizia e di amore che dura nel tempo. In queste zone del terremoto era facile, le iniziative che sono state promosse a tutte le latitudini per solidarietà, soprattutto a ridosso di questi tragici avvenimenti. È un po' più complicato farla a distanza di sei anni e se uno viene a Campi di Norcia, anzi invito a venire in questa bellissima zona, purtroppo dimenticata, per constatare che è tutto rimasto maledettamente come quella domenica mattina del 30 di ottobre e questo non può lasciare indifferenti. Una polentata ha suggellato una giornata in cui c'è stato tempo anche per fare un sopralluogo a Campi Alto, un paese rimasto fantasma. Tutta zona rossa completamente disabitato, purtroppo tante parole ma i fatti ancora non li vediamo, tanto faremo, faremo questo, quello, quell'altro ma la realtà dei fatti è molto ben diversa, è quella che vedete. Ventottesimo volume degli annali La Fraternita dedicato a Cosimo dei Medici nel trentesimo anno dalla prima pubblicazione degli stessi annali. Nel trentennale dalla pubblicazione del primo volume degli annali della Fraternita viene pubblicato il numero 28 interamente dedicato alla figura di Cosimo dei Medici, Cosimo I, che nel bene e nel male ha fatto la storia di Arezzo. Questo volume è dedicato a Cosimo I dei Medici, granduca di Toscano, grande granduca, davvero un grande personaggio storico ma pesa il suo comportamento verso Arezzo. Ha portato via la Chimera, ha portato via la Minerva, ha distrutto la bella cittadella sul colle di San Donato e ha distrutto il Domo Vecchio sul colle del Pionta. Un'occasione importantissima perché la presenza di Cosimo nel suo governo nel territorio ovviamente ne hanno modificato in parte anche l'identità e quindi era importante fare il punto della situazione attraverso la pubblicazione degli atti di un convegno che erano già stati in qualche modo preparati dal 2018. La Fraternita è Arezzo e si dimostra ancora una volta in grado di affrontare le sfide dell'oggi così come di conservare giustamente traccia del glorioso passato della nostra città. Cosimo I è una delle figure più importanti di quella parte del rinascimento italiano, certamente forse la figura più importante della famiglia dei Medici. Quindi credo che correttamente la città di Arezzo abbia ben fatto ad organizzare questo studio con collaborazioni diversificate. La figura di Cosimo potrà emergere in tutta la sua realtà. Un gesto di solidarietà che non è sfuggito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giovane Tifernate è stato nominato alfiere della Repubblica. Si è svolta a Roma a Quirinale la cerimonia per la consegna degli attestati d'onore di alfiere della Repubblica che il Presidente Sergio Mattarella ha conferito a 30 giovani meritevoli. Tra questi c'era il Tifernate Alexander Bani, 10 anni, protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà e fratellanza con Sascha, un bambino ucraino, compagno di classe. Emozione, commozione, tanto orgoglio ed un pensiero all'amico ucraino nel giorno simbolo della tragedia della guerra ad un anno dallo scoppio. Il sindaco Luca Secondi e l'assessore Letizia Guerri lo riceveranno in comune a Città di Castello nei prossimi giorni, assieme a Zaccaria Guizza, alfiere del lavoro, per tributargli affetto e riconoscenza. Una coproduzione targata Officine della Cultura e la filastoccola tra risate e riflessioni geopolitiche. Si tratta di breve apologia del caos che ha catturato il Teatro Verdi di Monte San Savino. Dentro un qualunque appartamento di New York irrompe la giungla e la forza bruta del cieco istinto. Dalla penna di Santiago Sanguinetti arriva la storia di un insolito quartetto che sogna un mondo dove il ritorno al caos, causato da un virus che rende l'uomo un primate, può segnare un nuovo inizio per l'intera umanità. La versione italiana del testo è curata dalla filastoccola e Officine della Cultura e ha fatto tappa anche al Teatro Verdi di Monte San Savino. La filastoccola e Officine della Cultura tornano a riproporre dopo un bel successo di quest'estate breve apologia del caos. Questo autore che non è mai stato pubblicato in Italia, noi l'abbiamo pubblicato con la nostra casa editrice e il testo è una trilogia della rivoluzione. Questo è il secondo della trilogia, non sono correlati fra di sé, però si chiama Breve Apologia del Caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan. Un titolo abbastanza breve, però torniamo. È molto ritmato, ci sono bellissime luci, l'atmosfera, è tutto molto reale, vivo e presente. Quindi è una cosa che magari in teatro sembra un po' strano trovare un testo del genere, ma è molto divertente. Tra l'altro la filastoccola continua a proporre sul palco del Teatro Virginian anche altre produzioni per quanto riguarda la stagione off. Sì, cosa di due giorni. Abbiamo avuto questa opportunità di portare il 13 di marzo Nino Formicola, che è del duo Gaspar e Zuzurro. È un incontro con lui dove parliamo di 50 anni di carriera. Qualche tempo fa vi abbiamo raccontato la storia di Agostino, un gattino salvato dopo un incidente, che ora ha bisogno del suo lieto fine. Agostino è ancora in attesa di un lieto fine. Nel frattempo una mano amorosa lo cura e gli rende la vita più stabile, anche se le numerose patologie di cui soffre devono essere semplicemente tenute sotto controllo. Un gioco da ragazze per chi ama gli animali e soprattutto vuole vederli felici. La storia di Agostino passa attraverso un incidente e numerosi interventi. Oggi è custodito da una persona che attende di poterlo dare in adozione ad una famiglia che lo voglia curare ed amare. Agostino è un gatto davvero miracolato, visto e considerato che è uscito fuori da un incidente terribile. Oggi gioca e vivace, anche troppo perché trascura la sua salute, ma è un gatto capace davvero di dare tanto. E allora abbiamo rinnovato la storia del dolce Agostino per cercare un lieto fine. Quello, per esempio, che ha avuto Gatto Giuliano, il consolatore delle persone, che oggi vive in un negozio felice e sereno ed accoglie, per così dire, i clienti con i suoi miagolii. Storie di gatti, ma anche storie di persone dal cuore d'oro. Grande esordio stagionale per l'Aretino Francesco Della Lunga, che vince la 36esima edizione. Parliamo di ciclismo della Firenze-Empoli. Della Lunga, tesserato con il team Colpac, si è giudicato una gara combattuta fin dall'inizio. Della Lunga ha coperto i 149 chilometri alla media di 42,253, anticipando Nencini, Buratti e Carollo. Questa era l'ultima notizia, ma noi facciamo il punto su cosa accadrà stasera. Domenica dedicata allo sport alle 20.30. Luigi Alberti conduce la Domenica Sport dopo il TG e poi farà seguito la differita dell'incontro di calcio Città di Castello-Tau-Alto Pascio, valido per il 25esimo turno del campionato di serie di Girone E. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie a tutti.